Ok, ricciao a papà, ricciao a voi ragazzi, ora dobbiamo attaccare il water monster, che devo trovare la patta grande, eccola. Ok, la dovremmo mettermi in un modo, che dovete fare anche voi, che non dovrete fare picco, ok, dopo alla fine mettete questo qua se si gira. Secondo che devo vedere, non ho sbagliato, precise, e sto male, ok, stop precise. Dopo stavo dicendo andate qua, scorrete, scorrete, arrivate qua, sommate, attaccate, questo, 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 questo. So, ci vediamo nella parte cinque, ciao!